Musica Tutti a tavola presso la sciabica di Agropoli. Cosa consigliamo oggi ai nostri telespettatori? Dalla sciabica proponiamo al piatto di oggi una millefoglie di pesce bandiera con verdure, uno scampa al vapore e delle patate croccanti. Per quanto riguarda la millefoglie di pesce bandiera, un pesce bandiera è un pesce azzurro del nostro mare, un pesce nostrano. Iniziamo prima a pulire la pelle, che è una sostanza che ha mare in bocca, quindi privarla di questa pelle. Poi la alterniamo con delle verdure croccanti, in questo caso noi abbiamo messo melanzane, zucchine e peperoni. Per quanto riguarda invece lo scampo, è uno scampo al vapore, con una cottura molto breve, massimo 3 minuti e con contorno abbinato sono delle patate a julienne fritte con dell'olio d'oliva a 110 gradi. Accompagniamo la millefoglie di pesce con una salsa di pomodoro san marzani in agrodolce e lo scampo invece con una dressing di arancio con cannella. E dalla sciapica buon appetito a tutti!